Buonasera, benvenuti a Top Secret. Questa sera parliamo di abbigliamento, abbigliamento donna e io quando si parla di donna sono purtroppo molto sensibile all'argomento. Ho scritto anche uno spettacolo, l'uomo che amava le donne proprio per una dichiarazione d'amore all'universo femminile, quindi siamo in una situazione che mi piace moltissimo. Perché sono con Antonio Orfatti, che è amministratore unico delle confezioni Orfatti di Limite sull'Arno, provincia di Firenze, parliamo di abbigliamento donna. Benvenuto. No, grazie a lei per essere venuto. Senta, il cognome che coincide mi fa pensare che lei c'entri qualcosa proprio con la nascita di questa azienda. Ci vuole raccontare la storia? La storia è la storia di abbigliamento di moda che praticamente nel 1969 io e mia moglie, appena sposati, appena ventenni, abbiamo rilevato l'azienda del babbo e del nonno perché già nel 1947 facevano pantaloni eccetera. E abbiamo fatto un progetto nuovo che tuttora dura, sono quasi 60 anni che l'azienda esiste. E adesso, per esempio, quanti siete in azienda adesso? In azienda siamo una quindicina, ma abbiamo tutte, molte lavorazioni esterne, ci avvaliamo di questo attualmente. Il core business, cioè esattamente cosa fate? Noi si fa abbigliamento da donna capi spalla. Praticamente tutto quello che è giacconi, giacche, capi in pelle, che è stata la prima cosa che abbiamo fatto negli anni 60-70. E dopo siamo andati anche, ultimamente facciamo tutti questi giacconi imbottiti con vera piuma oppure anche con materiali ecologici. Sì, questo è più o meno il nostro core business. Naturalmente facciamo due, i nostri marchi sono due, Montereggi e Vulab. Questi due marchi, il Montereggi è più sportivo e mentre il Vulab è più trasversale e pulito. Inoltre collaboriamo anche con Private Label, che sono delle aziende con il proprio marchio che vengono a fare della consulenza, ci chiedono della consulenza e la produzione di capi e spalla. Benissimo, senta, quindi voi siete specializzati diciamo in quello, più o meno. Qual è la vostra clientela di riferimento? Allora, la nostra clientela di riferimento sono i negozi al dettaglio mono-multimarca. Che attualmente abbiamo circa mille negozi che serviamo sia in Italia che all'estero. Mille? Sì. Ci picchia. Un migliaio, sì. Sono tutti i negozi che normalmente sono in provincia, perché nelle grandi città oggigiorno c'è tutte queste strade tutte uguali, no? Sì, sì, è una cosa molto triste. È più difficile per una piccola azienda come noi, ma nella provincia lavoriamo molto bene. Ma secondo me la provincia è più curiosa della grande città. La grande città è un pochettino appiattita in queste cose, veramente. Senta, immagino che ci sia una concorrenza spietata in questo campo. L'abbigliamento enorme. Tutt'ora c'è stata tanto. Cosa possiamo dire? No, stavo per chiedere infatti quali sono le differenze tra lei e i suoi competitors. Ma la principale secondo me è la storicità, che abbiamo tanto tempo dietro. Poi questa storicità ci ha insegnato tante cose particolari dello stilismo e della lavorazione, che tramandandola praticamente alle mie figlie e nipoti, ha reso molto facile per loro anche il rapporto con i clienti e i fornitori, che tuttora ce ne sono tanti, che sono gli stessi. Certo. Senta, il fatto che sia a conduzione familiare, a me suona molto bene il fatto che ci sia un'azienda a conduzione familiare. Ha la sua importanza, questo. Ma è certo che ha l'importanza. Vuol dire tradizione, vuol dire una cosa che si ripete, vuol dire che ripetendosi vuol dire che va bene. Non per nulla è diverso tempo che siamo lì. Allora, prima le ho chiesto quali erano le differenze con i competitors, adesso le domando quali sono i punti di forza dell'azienda. Allora, i punti di forza dell'azienda, dell'azienda la cosa principale sono le persone che lavorano per me e con me. Nel tempo abbiamo costruito un indotto lavorativo che ci ha permesso di avere una forte collaborazione. Mentre, per quanto riguarda il nucleo operativo principale, che è la mia famiglia e i miei collaboratori stretti che praticamente sono come dei figli in quanto è una vita e sono lì. Li conosco tutti. Li conosco tutti e sono cresciuti nell'azienda praticamente. Certo, certo. E poi vedo che avete anche una forza vendita di 32 agenti. Sì, inoltre abbiamo una forza vendita di 32 agenti sparsi fra l'Italia e l'estero. E anche con questi avete un rapporto ormai… È un rapporto consolidato che insomma vengono due o tre volte l'anno indita, prendono le nostre collezioni che sono di 50-60 pezzi l'una e le espongono nei loro showroom. Dove siete all'estero? Avete anche un mercato estero? Sì, sì, sì. Noi si fa la Spagna, la Francia, la Germania, la Svizzera, l'Austria, il Giappone, la Corea. Pure. E ci va lei? No, in Corea io non ci vado più, ma ci sono andato fino a 7-8 anni fa. In Corea facciamo le mostre. In Giappone abbiamo un rappresentante. Le mostre? Da anni. Sì, le fiere. Ah, ok, sì. Benissimo. Senta, è sempre bello parlare di futuro. Quali sono i progetti futuri della sua azienda? Allora, l'azienda deve sempre crescere perché questo è il motivo trainante. Noi abbiamo pensato e stiamo pensando a delle cose che già abbiamo cominciato, come per esempio abbiamo fatto una collezione da bambino, che l'abbiamo fatta uguale alla donna, quindi è stato facile farla e abbiamo praticamente ricevuto una clientela che noi non facevamo. Certo. Il bambino ci ha portato un nuovo ossigeno per questi negozi che normalmente sono da bambino e basta. inoltre c'è l'e-commerce che lo stiamo già facendo da due o tre anni per quanto riguarda la digitalizzazione del processo della vendita e a riguardo dei negozianti e anche dell'ultimo acquirente. Dopo, noi già abbiamo un parco di mille metri quadri di pannelli sorari. Lo vorremmo espandere perché per quanto riguarda il green è una cosa molto importante e ci aiuta anche. Sì, eh? Sì. Quindi con la green economy siete messi bene. Sì, però la vorremmo espandere ancora. Inoltre siamo sempre alla ricerca di tessuti ecocompatibili perché sono la richiesta maggiore che c'è attualmente. Già l'abbiamo, ma la ricerca è sempre fatta in più. Va sempre fatta. Senta, come dicevo prima, parlare di futuro fa bene. Ecco, la tecnologia è presente, immagino. Certo, c'è una tecnologia su tutto quello che riguarda lo stile e i modelli. Oggigiorno ci sono i CAD che viene tutto programmato su computer e anche il taglio che facciamo è fatto tutto a computer con delle macchine che tagliano da solo 50 capi, 60 capi insieme. Senta, siamo arrivati alla fine, manca pochissimo e le volevo chiedere qual è il segreto del successo della sua azienda se dovesse identificarlo. Sicuramente il segreto è la persistenza, la resilienza e la serietà dell'azienda. Perseverare è la cosa principale perché se no non si va da nessuna parte. Ci sono dei momenti nella moda che non sono sempre uguali. Abbiamo dovuto tenere forte e raggiungere sempre gli obiettivi. Inoltre posso dire che a noi è difficile che non si fanno affatto campagne pubblicitarie. Però vogliamo, ed è abbastanza così, che il nostro prodotto e la nostra collezione parli di noi. E questo succede. Certo, ormai l'abbiamo visto da tempo. Il passaparola è la pubblicità. Bene, bene. Senta, la ringrazio per essere stato con noi. Grazie a lei. Grazie davvero. Arrivederci. Arrivederci. Buonasera, benvenuti a Top Secret. Questa sera parliamo di macchine da fondazioni. E ne capiremo qualcosa. Perché io non ne so niente. Quindi l'ingegnere Matteo Canepa, amministratore delegato, mi farà capire tutto su questa cosa. Parliamo della Bauer Macchine Italia, azienda che ha sede a Imola, Bologna, ma non è italiana. No, l'azienda è una realtà italiana, espressione di un gruppo internazionale di sede tedesca. Un colosso. Un colosso. Noi siamo un'azienda di 12.000 persone nel mondo, circa 2 miliardi di euro di fatturato a livello globale. Ah, solo? Esistiamo da ben oltre due secoli, l'azienda è stata fondata... Infatti stavo per chiederle la storia dell'azienda. Esistiamo da oltre due secoli, chiaramente non è iniziato il percorso con le macchine da fondazioni, ma con altro, ma dall'inizio del Novecento l'azienda si occupa di scavi, di pozzi d'acqua e di cantieristica in generale. Dalla metà degli anni 50 ha iniziato a costruirsi anche le macchine per lavorare e da pochi anni dopo ha deciso di commercializzare queste macchine. Noi oggi siamo tre divisioni differenti. La Bauer Macchine Italia fa parte della divisione, come dice la parola, macchine, e ci occupiamo appunto di vendita, assistenza e tutto ciò che riguarda questi macchinari da fondazioni per il mercato italiano. Mi dicevano che ci sono... Non sono tantissime le aziende che fanno questo tipo di lavoro? No, è un settore di nicchia, molto specializzato. Ci sono una trentina di aziende nel mondo che costruiscono macchinari di questo tipo. Peraltro una ventina abbondante sono italiane, quindi la concorrenza è importante. Da qualche anno si sono affacciati, come in ogni settore, soprattutto aziende orientali, cinesi, specialmente. Allora, vediamo al dettaglio. Che tipo di macchine voi producete? Che macchine costruite? Allora, sono macchinari innanzitutto cingolati, quindi immaginiamoci come una gru o un carro armato. Macchinari che poggiano su cingoli, che servono per perforazioni verticali, esclusivamente verticali, molto dimensionalmente importanti, e anche dal punto di vista del peso, dalle 50 alle 250 tonnellate di peso, e servono essenzialmente per la realizzazione delle fondamenta delle infrastrutture. Per infrastrutture intendo ponti, strade, ferrovie, grandi centri di produzione o commerciali. Qualunque cosa, qualunque edificio, qualunque infrastruttura che poggi, deve poggiare su delle fondamenta, le nostre macchine sono fatte per realizzare qualunque tipologia di fondazione. Sì, io credo di averne sentito molto il rumore, perché abito vicino agli scavi qui a Milano della metropolitana. Assolutamente sì. Più o meno è quello, no? È un pezzo, un ramo delle nostre macchine proprio dedicato alla costruzione di cosiddetti pannelli che servono alla creazione delle stazioni della metropolitana. Quindi sì, metropolitane piuttosto che, appunto, come dicevo prima, grandi infrastrutture anche sopraelevate sono il tema della nostra azienda. Beh, è un lavoro gigantesco. Immagino che trattandosi anche della sicurezza delle persone sia un lavoro assolutamente accurato. È un lavoro nel quale non si può sbagliare per una ragione molto semplice. Non si può sbagliare in fase di esecuzione perché nei cantieri bisogna assolutamente garantire il livello di sicurezza massimo perché sono luoghi di natura pericolosi per il tipo di lavorazioni che si fanno e ovviamente la realizzazione delle stesse opere è soggetta alla sicurezza futura massima perché poi quello che le nostre macchine fanno deve essere poi in grado di garantire il fatto che l'infrastruttura sia solida e prega per il tempo destinato. Certo. Senta, a chi vi rivolgite voi? Il nostro mercato è... Noi, come Bauer Macchina Italia, come accennavo prima, siamo dedicati al mercato italiano. I nostri clienti sono aziende essenzialmente di due tipologie. Le aziende di opere speciali, di fondazioni speciali, quindi coloro che comprano o noleggiano i macchinari da noi e li utilizzano all'interno dei cantieri. Oppure le grandi imprese generali di costruzioni, cioè chi prende il lavoro a livello, diciamo, nazionale, quindi o dallo Stato o dai privati e conseguentemente poi suddivide il lavoro nei vari subappalti e può in qualche caso attrezzarsi direttamente con i nostri macchinari. Senta, visto che mi diceva che ci sono molti competitor italiani, quali sono i punti di forza vostri rispetto a loro? Noi godiamo indubbiamente di una qualità intrinseca di tutto ciò che è nell'immaginario collettivo il macchinario proveniente dalla Germania. La qualità oggettivamente è il nostro marchio di fabbrica. Il nostro punto di forza, ed è stato un punto di forza veramente importante anche per entrare nel mercato italiano, è l'attività consulenziale. Noi non vendiamo macchine, noi studiamo insieme ai nostri clienti i lavori, forniamo le macchine, loro li realizzano, ma la metodologia migliore, la tecnologia migliore da applicare in quel singolo cantiere, in quel singolo caso, è qualcosa che viene studiato insieme ai nostri clienti. Quindi quella capacità di lavorare insieme e di non avere il rapporto cliente-fornitore, ma più un rapporto di partner, è indubbiamente il nostro punto di forza. Senta, immagino che sia un campo sempre in evoluzione, per quanto riguarda proprio la tecnologia, tutto, parliamo di innovazione. Assolutamente sì, i nostri macchinari, così come le automobili, ad esempio, non sono stati esenti da dei macro trend oggi assolutamente popolari, come l'elettrificazione, la digitalizzazione, quindi le nostre macchine sono individuabili in qualunque parte del mondo e si può in qualunque momento vedere da un computer o da un telefono cosa stanno facendo, dove sono, che tipologie di lavorazioni stanno eseguendo e via dicendo. L'elettrificazione e la sostenibilità in senso generale sono qualcosa che per noi oggi sta diventando molto importante. Stiamo sostitudendo e affiancando via via i motori endotermici all'interno delle macchine con motori elettrici o a batteria e allo stesso tempo badiamo molto alle emissioni in senso lato. Le nostre macchine operano molto spesso, soprattutto l'Europa, è un centro abitato quasi unico e quindi avere macchinari così grandi all'interno dei centri abitati necessita da parte di chi ricostruisce un'attenzione in modo che l'impatto che questi macchinari hanno nella vita quotidiana delle persone sia il minore possibile. Senta, ma progetti per il futuro visto che pensavamo prima è un campo in continua evoluzione? Chiaramente oltre ai progetti di gruppo che sono appunto coinvolgono tutte e 12 mila le persone noi abbiamo dei progetti locali importanti abbiamo da poco cambiato sede sempre rimanendo nel Limolese il gruppo ha investito in questa nuova realtà l'obiettivo principale è allargare i servizi che oggi noi siamo in grado di fornire ma per una ragione molto semplice vendere le macchine può essere il primo passo ed è il primo passo fare felici i clienti durante l'utilizzo delle macchine durante il loro ciclo di vita è un elemento fondamentale per poterli poi convincere a ricomprare la seconda macchina e quindi erogare dei servizi stabili professionali e a tempi con tempi e costi certi è l'obiettivo principale per il futuro a breve dell'azienda senta ma e che patente chi è che le guida ci vuole una patente immagino mi creda questo è un tema molto molto caldo davvero purtroppo purtroppo a livello italiano ma devo dire europeo non siamo stati in grado di definire una patente univoca e la verità è che oggi questi macchinari pur essendo molto importanti pur essendo molto costosi non hanno una patente unica per poter essere guidati vengono fatti dei corsi specifici chiaramente esiste una formazione ma una formazione che è non unificata e anche in questo senso sia come costruttori sia come utilizzatori stiamo cercando di lavorare insieme per arrivare a una definizione senta siamo arrivati alla fine purtroppo rimane solo qualche seconda per chiedere qual è il top secret qual è il segreto di un'azienda così importante il nostro segreto è siamo un colosso a livello globale ma siamo anche veramente capaci di essere vicini ai nostri clienti a livello locale l'intimità con i clienti dal punto di vista professionale è una leva fondamentale che quasi solo noi al mondo siamo in grado di avere benissimo grazie grazie per essere stato con noi grazie benvenuti benvenuti a top secret stavamo allegramente chiacchierando col signor Tommaso Schipani che è l'amministratore della infissi e arredamenti croton naturalmente parliamo di crotone esatto una città in una zona bellissima di mare che ho frequentato anche quella in teatro parliamo di infissi e arredamenti vogliamo cominciare facendo un po' di storia dell'azienda com'è nata l'azienda questa azienda è nata nel lontano 1960 da mio padre di cui era un piccolo artigiano e sin da bambino io gli davo una mano in bottega facendo il falegname falegname esatto noi nasciamo come falegname anche se sono falegname figlio d'arte sia da mio padre che da mia madre però ho seguito sempre le orme di mio padre poi nel 93 ho iniziato con una mia azienda sempre appoggiata da mio padre finché è stato in vita dopodiché l'ho portato sempre avanti mi sono sempre innovato anno per anno ingrandendomi sempre di più di cui oggi abbiamo circa 25 operai e 5.000 metri quadrati di di capannone con attrezzature sempre più moderne e che cosa fate esattamente qual è il core business dell'azienda allora noi costruiamo infissi in legno legno alluminio e abbiamo addirittura inserito negli ultimi anni il pvc e poi abbiamo la costruzione dell'arredamento in genere qualsiasi tipo di arredamento che possa essere d'appartamento o che possa essere un arredamento d'albergo o di un negozio o qualsiasi genere che si possa quindi su richiesta qualsiasi richiesta qualsiasi su richiesta lavoriamo tutto su misura in modo artigianale e ogni pezzo è singolo quindi non c'è una catena no noi possiamo essere a livello industriale ma nello stesso tempo rimaniamo nell'artigianalità e questa è la garanzia certo è bello bellissimo senta la vostra clientela chi è? la nostra clientela per lo più è privata noi seguiamo tutti i nostri clienti singolarmente e siamo supportati da da tanti architetti di cui ogni singolo lavoro questi architetti ci ci chiamano per poter realizzare i vari arredamenti da loro disegnati certo ma voi vendete fate il prodotto naturalmente poi però stavamo chiacchierando prima a volte li vendete ma bisogna anche montarle queste cose certo ogni prodotto di questo è sempre montato da noi e quindi di cui seguo io personalmente questa parte finale e quindi siamo sempre noi a fare i montaggi certo se no non serve vendere un prodotto se poi non viene montato noi facciamo l'arredamento e lo montiamo ma voi siete presenti in tutta Italia? noi siamo presenti in tutta Italia e abbiamo avuto qualche lavoro che abbiamo fatto anche su Parigi tra questo abbiamo fatto una sala living nell'aeroporto di Orlì e abbiamo seguito anche qualche cliente privato tramite degli architetti che abbiamo conosciuto e per la maggior parte in Italia Roma Milano Bologna Firenze Sardegna Toscana perché mi diceva che lei deve girare proprio personalmente lei gira io giro personalmente giro sia nel cercare il lavoro sia nel farlo fare e poi nei montaggi ci ritorno di nuovo io insomma essere arrivato ad avere un'azienda con 25 persone che lavorano per lei è un bel risultato è un bel risultato sì essere artigiani con questi numeri non è facile complimenti grazie quali sono i punti di forza dell'azienda secondo lei? il nostro punto di forza sicuramente è il team abbiamo delle persone molto qualificate di cui alcuni ci sono da tanti anni addirittura dalla falegnameria di mio padre ecco e che oggi queste persone ancora lavorano e che seguono molto i giovani per la formazione degli stessi quindi è una tradizione che si rinnova continuamente addirittura adesso ci sono anche i miei figli nell'azienda che si sono laureati ma sono voluti venire a lavorare nella nostra azienda no questa parola che ha usato lei artigianato comunque è una cosa che si sta un po' perdendo ma invece secondo me è un grande valore una grande ricchezza il fatto di riuscire a coniugare sì l'industria però con l'artigianato riuscire a a mantenere la tradizione certo e oggi l'artigiano è importantissimo e ne se ne potrà fare a meno e consiglio a qualsiasi giovane di avvicinarsi sempre di più perché sarà un mestiere che andrà a scomparire domani andranno tutti a comprare i mobili già costruiti e già fatti perché il faligname scomparirà però sono diversi da quelli fatti dal faligname e beh certo diciamoci la verità certo bene senta il c'è stata la pandemia periodo veramente la pandemia diciamo che è stato un punto negativo che noi siamo riusciti a passare con un po' di difficoltà ma per fortuna siamo riusciti a lavorare all'interno dell'azienda perché potevamo lavorare e con un po' di difficoltà nelle consegne perché la pandemia non ci permetteva addirittura agli inizi di poterci spostare da città in città abbiamo voluto aspettare e poi piano 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 siamo risaliti certo bene allora negli ultimi anni anche perché immagino che si debba comunque sempre innovare quali sono stati i vostri quali sono state le innovazioni che avete apportato all'azienda le innovazioni più importanti sono aver sostituito le attrezzature in attrezzature innovative di cui noi siamo abbiamo comprato più pantografi di cui per la lavorazione del legno sono molto importanti e di cui uno di questo addirittura porta una bordatrice a bordo macchina che serve per la massima precisione di ogni singolo pezzo quali sono i progetti come lo vede il futuro per un'azienda nata artigianalmente ma che si sta adeguando noi stiamo puntando oltre il mercato italiano anche il mercato estero se se riusciamo naturalmente nel futuro avremo bisogno di altre innovazioni per stare al passo dei temi e in continua evoluzione il mercato in continua evoluzione in continua evoluzione come tutte le cose bisogna combattere contro le grandi aziende diciamo che noi non combattiamo con le grandi aziende perché noi siamo artigiani le grandi aziende costruiscono 10 milioni di cucine 10 milioni degli stessi mobili noi ne costruiamo uno e basta quindi noi combattiamo con i nostri simili con i nostri colleghi artigiani il nostro combattimento e poi naturalmente far capire ai nostri clienti che il nostro prodotto è superiore a quello che va a comprare da un'industria vera e propria senta lei mi parlava prima dell'importanza del team nel senso che quando lei va fuori per lavoro eccetera comunque ha dei collaboratori che fanno il lavoro che dovrebbero sì ho degli ottimi collaboratori di cui ogni collaboratore ha una squadra dove portano avanti il lavoro che io gli commissiono di fare quando io rientro in sede controllo il lavoro che sia andato tutto a buon fine e che sia pronto per essere portato in consegna certo senta l'ultima domanda noi ci chiamiamo top secret qual è il segreto dell'azienda perché possiamo dire che è un'azienda che ha avuto un grande successo il segreto dell'azienda è una grande passione verso questo lavoro e un altro segreto è quello di avere i nostri clienti non come clienti ma dei partner dove noi li seguiamo non solo nel momento in cui gli abbiamo fatto questo l'arredamento gli infissi quello che esso sia ma che per qualsiasi motivo per qualsiasi cosa possa succedere noi siamo lì sempre presenti anche dopo la vendita anche dopo la vendita certo e poi naturalmente è da attribuire un grosso lavoro di pazienza e e di passione e di passione come abbiamo già detto senta grazie grazie per essere stato con noi grazie a voi e buona sera buonasera buonasera benvenuti a Top Secret dove ci occupiamo di eccellenze dell'imprenditoria italiana oggi parliamo di consulenza strategica e siamo con Vanna Caraffa direttore ecco qua politicamente corretto non si sa più come chiamare direttore direttore va benissimo direttore della comunicazione della SIDEA Group SRL di Fasano un posto bellissimo in Puglia noi normalmente cominciamo facendo un po' di storia dell'azienda ci vuole raccontare come è nata? certo SIDEA Group nasce dall'idea di quattro amici quattro ragazzi che unendo le loro competenze e la passione per la tecnologia decidono di creare una realtà che possa che potesse essere per le aziende di aiuto nella loro crescita su tutto quello che è appunto la competenza di marketing e innovazione tecnologica quindi nasce dalla passione di questi ragazzi e lei non era uno di quei ragazzi non ero evidentemente uno di quei ragazzi naturalmente da quel momento perché questo incontro avviene circa 12 anni fa da quel momento di strada ne è stata fatta tanta il posizionamento di SIDEA è ancora quello nell'ambito Martech che è questa parola moderna crasi di marketing e tecnologia e quindi lavoriamo a supporto delle aziende per favorirne la crescita soprattutto in ambito digitale ad oggi SIDEA conta circa 200 dipendenti tra dipendenti e collaboratori stabili quindi c'è stata una notevole crescita dovuta quindi una crescita degli spazi e del numero delle persone ma anche diciamo una crescita del business dovuta chiaramente al crescente interesse per la digitalizzazione che ha poi avuto la pandemia come momento centrale perché eravamo naturalmente tutti chiusi in casa e probabilmente il commercio elettronico o la tecnologia erano gli unici fattori a connetterci chiaramente nel mondo esterno e poi per le aziende che hanno scelto di evolvere il proprio business e quindi di spostarsi verso un business digitale questo è un processo che non si può più controvertire perché una volta abbracciata l'innovazione bisogna poi solo continuare a stare al passo e non si può più tornare indietro quindi questo ha fatto sicuramente da volano per la crescita di SIDEA benissimo avevo preparato delle domande e lei ha detto tutto praticamente adesso non è vero non è vero la crescita è stata molto molto importante io vedo qui il 30% di crescita in più sì sì allora proprio per quel che abbiamo detto e per il settore insomma in cui SIDEA opera è stato chiuso il 2023 con il 30% di fatturato in più rispetto all'anno precedente e per la terza volta SIDEA Group è entrata nella classifica del Financial Times tra le 500 aziende a livello europeo a maggior crescita quindi la crescita innegabile che porta poi adesso nel 2024 anche un po' ad ottimizzare questa crescita e a orientare gli investimenti magari in nuovi settori e in nuovi servizi a servizio sempre ai nostri clienti quindi il sales management sì diciamo che nel 2024 le aree in cui SIDEA ha deciso di investire sono sicuramente il sales management ma soprattutto c'è stata diciamo l'avvento la nascita di Sirio che è la nostra area di ricerca e sviluppo e di SIDEAX che è un altro dipartimento dell'azienda che si occupa di marketing proprio utilizzando i servizi studiati dai nostri scienziati del dato che lavorano in Sirio ecco io sono molto fascinato da questo argomento perché come dico sempre non sono mai riuscito neanche a fare lo speed quindi in anni e anni per cui sono molto affascinato da questa cosa che mi sembra proiettata verso il futuro esattamente quindi me l'ha già un po' accennato che cosa fate esattamente sì allora SIDEA come abbiamo detto si occupa di consulenza strategica per le aziende la consulenza strategica per le aziende che utilizza strumenti di marketing e di tecnologia non può essere oggi lontana dal mondo dell'intelligenza artificiale che è questo insomma questo parolone abusato che a volte spaventa ma in realtà fa paura però in realtà non dovrebbe essere così dovrebbe essere forse spiegata un po' meglio e non come questo mostro insomma tecnologico e quindi ha investito in Sirio che è appunto la divisione di ricerca e sviluppo che è diciamo gestita dai nostri scienziati del dato e esperti di intelligenza artificiale i servizi di Sirio Sirio quindi serve a SIDEA Group per essere sempre al passo per fornire nuovi asset tecnologici alle aziende che sono nostri partner e nostri clienti è per governare questo fattore questa importante rivoluzione tecnologica che ovviamente le aziende non riescono a gestire in maniera autonoma perché non tutte le aziende hanno investito adesso in o possono permettersi di avere dei data scientist per strutturare questi servizi quindi SIDEA Group e appunto con Sirio crea questi servizi le faccio un esempio molto molto pratico Sirio ha sviluppato uno strumento che si chiama simpateia richiamando al greco antico che in buona sostanza analizza le emozioni delle immagini scaturite dalle immagini delle campagne pubblicitarie questo cosa significa a cosa serve perché dobbiamo istruire una macchina per darci queste risposte beh perché magari chi crea le campagne pubblicitarie lo fa magari condizionato dai propri bias personali quindi sono davvero certa che quella determinata immagine susciterà nel mio pubblico di riferimento quella emozione ecco questo strumento di Sirio ci aiuta aiuta le aziende proprio andare in questa direzione molto interessante anche per me voi avete creduto anche nella subscription e nei servizi in abbonamento vedo sì diciamo che le piattaforme tecnologiche utilizzate da SIDEA poi per fornire i suoi servizi di consulenza sono tutte quelle che riguardano il mondo della subscription e dei servizi in abbonamento basti pensare ai servizi per esempio per l'editoria e quindi ai pagamenti ricorrenti che tutti noi effettuiamo oppure piattaforme CRM che sono quelle piattaforme che consentono di stabilire relazioni durevoli con i clienti nel tempo o ancora quello che oggi viene definito lo unified commerce cioè questa visione ampliata dell'e-commerce che riguarda sia gli store fisici che quelli digitali senta qual è la vostra clientela di riferimento allora un'azienda che ha una storia di ormai 12 anni non può ovviamente avere una clientela omogenea quindi ci sono i clienti storici che hanno scelto Sidea quando Sidea era ancora piccola e hanno deciso di condividere la sfida verso nuovi servizi di cui all'epoca magari era anche un po' folle parlare e invece oggi ci sono le grandi aziende e quindi Sidea è stata scelta da grandi aziende per sviluppare progetti molto più competitivi e molto più grandi quindi la clientela è diciamo sicuramente non omogenea come è giusto che sia però è anche bello avere ancora le piccole aziende che ci hanno visti crescere e con le quali siamo cresciuti insomma so che voi valorizzate i vostri talenti le persone che lavorano per voi sono 200 adesso e quindi insomma comincia ad essere già una bella azienda sì una bella azienda ed è fondamentale per raggiungere tutti gli obiettivi che insomma Sidea si prefigge intercettare talenti e cercare poi di trattenerli questo si fa regalando alle persone il benessere e la serenità sul luogo di lavoro non solo benessere e serenità ma anche la certezza di lavorare in un ambiente inclusivo in un ambiente dove le donne hanno la stessa possibilità di fare carriera rispetto agli uomini hanno la possibilità di essere pagate quanto gli uomini questo naturalmente ci ha consentito di ottenere la certificazione per la parità di genere ma non sono le uniche azioni per esempio a tutela delle lavoratrici Sidea è una delle pochissime aziende italiane ad aver istituito il congedo rosa per le donne quindi hanno un giorno in più per poter restare a casa senza erodere quella giornata dal monte ferie quindi davvero molta attenzione alle persone bello bellissimo questo ma hai pensato di candidarsi in politica perché queste sono cose molto importanti molto importanti no le direi con una frase un po' dissacrante preferisco rimanere una brava persona e beccatevi questa no così insomma bellissimo senta ci chiamiamo top secret perché l'ultima domanda è proprio quella qual è il segreto del successo di un'azienda come Sidea allora lo racchiuderei nella parola valore valore per i nostri dipendenti ma senza utilizzare ormai l'abusato concetto delle persone al centro e dei clienti al centro perché come dice un mio caro collega a furia di mettere le persone al centro il centro è diventato un posto pieno di gente di persone che magari non vogliono neanche stare lì quindi dare valore alle persone e dare anche spazio alle persone valore nei progetti che facciamo per i nostri clienti costruiamo per i nostri clienti e valore per la comunità e l'ambiente in cui Sidea opera infatti stiamo da quest'anno intraprendendo il cammino per diventare al più presto una B Corp benissimo guarda la chiusura migliore non potevamo averla io la ringrazio molto per essere stata con noi grazie grazie buonasera 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 benvenuti a Top Secret questa sera siamo nel mondo della metallmeccanica siamo con la Sider Lomellina SRL un'azienda di Cilavegna in provincia di Pavia e sono con noi Franco Balocco founder e responsabile dell'ufficio acquisti e Sergio Ubezio founder e responsabile della produzione buonasera buonasera normalmente noi cominciamo facendo un po' di storia dell'azienda come nasce? Sider Lomellina nasce cinque anni fa quindi siamo giovanissimi sì per un caso fortuito che poi descriveremo ci siamo trovati un giorno da Sergio il vecchio titolare dell'azienda che peraltro era un mio cliente mi chiama e mi chiede di trovargli un acquirente per la sua azienda perché era già in pensione e voleva smettere sì terminiamo la telefonata e Sergio mi dice chi era? era Molina e cosa voleva? voleva vendere la sua azienda penso che ci abbia pensato circa tre secondi dice benissimo la compriamo noi è partita così forse quasi per scherzo sì beh certo poi l'acquisizione qualche problemino l'abbiamo avuto per l'acquisizione però grazie ai buoni rapporti con gli istituti di credito poi si è perfezionata l'acquisizione in un tempo decisamente breve quindi anche le banche hanno un cuore sì diciamo che dunque Sergio è titolare di un'altra azienda a Magenta che è la Fratelli Ubezio sì la prossima settimana festeggeremo il cinquantesimo della Fratelli Ubezio quindi è un'azienda con una storia importante importante posso sapere quanti sono quanti sono gli uomini che avete voi quanti sono gli uomini che lavorano per voi attualmente siamo i 25 abbiamo cominciato rilevando l'altra attività ed eravamo in nove però il fatto di avere entrambi 40 anni di storia alle spalle io come agente di commercio di materiale siderurgico e lui con la sua azienda perché ha avuto la capacità di portare avanti un'azienda che il papà e il zio hanno fondato 50 anni fa ho detto sbagliando gli uomini che lavorano per voi ci sono anche delle donne assolutamente quindi prima le donne poi gli uomini senta allora cosa fate quali sono i prodotti che offrite dunque i nostri prodotti prodotto principale è la commercializzazione delle lamiere tagliate a misura secondo le necessità del cliente sono lamiere che vanno da uno spessore basso di 5 mm fino a un 300 mm di spessore tutti questi questi tagli sono certificati con una certificazione 1090 che è lo strutturale e abbiamo addirittura la XC4 che ci permette di operare anche nel campo del nucleare e del ferroviario è una certificazione molto importante certo il taglio viene con ossitalio per chi non lo conosce è una tecnologia che a termico a fiamma taglia lamiere fino a 30 cm per cui è una bella nel nostro caso qual è adesso il vostro obiettivo aziendale parliamo già di futuro perché è sempre bello parlare di futuro quali sono gli obiettivi aziendali è un po' specie parlare di futuro alla nostra età perché ma che età io sono già dipendente IMS per cui bene e lui è brevissimo però sì abbiamo qualche progetto innanzitutto abbiamo ristrutturato l'azienda che proprio per il fatto che avesse la sua età e il signor Molina stesse andando in pensione diciamo che l'aveva un po' tralasciata quindi abbiamo dovuto investire su macchinari nuovi tutti i nuovi impianti tutti i nuovi impianti e poi portando dentro clientela che chiaramente conoscevamo investire sulle personale e formare soprattutto il personale è stata dura scusati immagino che sia un campo in continua evoluzione per questo che avete cambiato sì ci sono delle nuove tecnologie effettivamente infatti bisogna sempre stare all'avanguardia per poter dare un prodotto di alta qualità ai clienti perché poi quello che veramente cerca un cliente è la qualità la correttezza nelle consegne e la puntualità nelle risposte che il cliente vuole da noi e questo è uno dei nostri punti di forza la puntualità serve sia per la clientela che per la nostra programmazione certo per la nostra programmazione perché non è secondaria che voi realizzate anche a seconda delle richieste del cliente assolutamente sì soprattutto secondo la richiesta del cliente quindi una cosa su misura su misura esattamente che può essere in piccole medie o grandi quantità però su misura e spaziamo su dei campi assolutamente dissimili dalla macchina per fare calzature all'edilizia alla tessile all'impiantistica all'impiantistica bravo all'impiantistica in generale perché ci richiedono ci mandano dei disegni di XF o di VG che dobbiamo sviluppare dobbiamo aprire e tagliare i pezzi che loro ci chiedono che poi possono diventare gru piuttosto che macchine di qualsiasi genere fa impressione sentire tagliare quando si parla di lamiere o valvole ecco anche valvole abbiamo dei clienti che fanno valvolame che ci chiedono gli spessori di una certa dimensione la vostra clientela di riferimento qual è? è una clientela nazionale mentre è nostro interesse nel prossimo futuro aprirci a mercati esteri infatti nel prossimo anno apriremo un ufficio commerciale estero è uno tra i nostri obiettivi per poter cominciare ad esportare il nostro prodotto sappiamo di avere un prodotto di ottima qualità i nostri clienti stessi ce lo ce lo dicono tutti i giorni e quindi perché non muoverci all'estero e proporre fra virgolette il made in italy all'estero che è un marchio così prezioso che a volte ce ne dimentichiamo del made in italy quindi avete un rapporto particolare con i vostri clienti sì decisamente fortunatamente sono nella maggior parte clienti o aziende con cui già collaboriamo da anni ci siamo presentati con un logo diverso ma fondamentalmente sono i clienti che già conoscevamo sia che arrivo dal fratello Bezio che dalla mia attività di venditore li avete messi insieme li avete messi insieme come dicevamo siamo passati da 50 a 250 clienti mentre prima era un'azienda prevalentemente locale adesso cominciamo a spaziare dal torinese fino si diciamo che il nord italia è abbastanza ben coperto e la cosa che ci dà tantissima soddisfazione è che molti dei nostri clienti ci fanno pubblicità e questo vuol dire che è un bellissimo in Italia vige ancora il passaparola io faccio teatro dove si vive grazie il passaparola vedi che più o meno infatti infatti quindi un cliente se è soddisfatto torna esatto ma soprattutto ti porta altri clienti ti porta i clienti e infatti siamo cresciuti però va sempre coltivato è importante importantissimo quindi viene seguito anche dopo la vendita assolutamente il post vendita assolutamente noi non ci interessiamo più della premettivazione o dell'inserimento degli ordini abbiamo delegato ai nostri collaboratori che peraltro stanno facendo un lavoro fantastico e quindi però siamo diventati dei consulenti dei nostri clienti per cui ci cercano quando hanno delle domande o quando hanno dei dubbi o quando vogliono sviluppare qualche cosa tra l'altro Sergio a livello di carpenteria è veramente fenomenale è vero è vero è vero è vero è la verità questo è vero sì io l'ho sempre avuta nel cuore fin da quando mio padre l'ha fondata penso che non avrei fatto altro beh questa è una vocazione proprio bello eri in officina ancora quando andavo a scuola ah sì beh certo sì io finivo verso le due la la scuola di perito e tempo di pranzare poi ero in officina con con l'operaio più bravo che aveva mio padre e che belle che sono queste storie familiari mi piacciono tantissimo perché secondo me sono proprio una garanzia sì e ho avuto anche la capacità di proseguire perché il cambio generazionale sappiamo nella maggior parte dei casi come va a finire beh insomma sì si litiga la fratelli Ubezio che è parte del nostro gruppo perché ovviamente siamo molto legati tra Siderlumellino e fratelli Ubezio l'idea di acquisire la Siderlumellina è stata proprio perché già loro avevano necessità di orsi tagliato e farselo in casa è meglio che andarlo a comprare avete appena accennato ma quant'è importante il rapporto con i dipendenti è fondamentale è fondamentale l'azienda è come il corpo umano ha una testa e tutti gli organi ma devono essere tutti in simbiosi non può essere diversamente e fortunatamente abbiamo dei collaboratori veramente veramente in gamba dall'ufficio amministrativo l'ufficio tecnico nella produzione nella carpenteria nella logistica anche e quindi benvenga e un plauso ai nostri ai nostri dipendenti perché sono veramente in gamba beh viene fuori devo dire un quadro bellissimo di questa azienda siamo arrivati alla fine ve lo dicevo che sembrano tanti 12 minuti in realtà sono quando è tutto interessante sono pochi ultima domanda top secret qual è il segreto dell'azienda devo sapere da tutti e due chi comincia? comincio io perché sono andato per curiosità a cercare l'etimologia di segreto e il vocabolario trecani recita che uno riesce a fare successo se riesce a creare qualcosa che si riesce a a fare le cose certo e noi non abbiamo la pretesa di di credere che abbiamo già avuto successo non si smette mai non si smette mai infatti però la serietà il rapporto con la clientela è fondamentale quindi alla fine credo che le cose vengano per conto loro e invece per me il successo della nostra azienda deriva dal fatto che l'ottimo rapporto che abbiamo con i dipendenti va poi a tramutarsi in un ottimo rapporto con la clientela e quindi possiamo dare quel prodotto di alta qualità che i clienti cercano e per me quella è la soddisfazione principale mi sembra uno splendido una splendida chiusura del nostro incontro grazie per essere stati con noi grazie a voi grazie a voi grazie a voi grazie a voi